Carissimi amici e carissime amiche, benvenuti ad una nuova puntata della mia rubrica intitolata Muto come un pesce. Questa mia rubrica si intitola così, per associazione di idee, a quella fiction spagnola sul canale 5. Amici e amiche, ora vorrei cantare una canzone mia personale e cortesemente siete impregati di ascoltare attentamente questa mia canzone personale. Buon ascolto! Una ragazza, Giorgettina, pionde e binichina, con la frangetta. Fa la farmacista e sta in Sicilia, Giorgettina. Quando Giorgettina va al supermercato, c'è te che si presenta in minigonna, dalla sua voglia. Pur facendo la sua spesona a quel supermercato, tutti quanti vedono i bigodini e zoccoli. Giorgettina, se Giorgettina va in banca a parlare di grossi affari con quel direttore. Giorgettina, stavolta va con una gonna e senza bigodini. E dopo che ha parlato brevemente col direttore, il direttore manda via dalla banca, Giorgettina. Giorgettina, dopo che ha parlato brevemente col direttore, il direttore consiglia di andare in piscina per votare a Giorgettina. Grazie a tutti.